Paro Viola nasce nel 2005. Lo scopo della collezione è quello di creare dei piccoli gioielli che ogni sei mesi si rinnovano completamente costituiti da metalli non preziosi, pietre dure e svaroschi. Tutto è realizzato a mano in Italia con estrema cura nel dettaglio e nel design. La collezione per l'inverno 2011-2012 si chiama Pause Rewind. È una rivisitazione di concetti vecchi, di cose già vissute e cose nuove per dare un'impronta ancora più scintillante a questa collezione. Grazie per la visione!